Ciao a tutti, in questo trentesimo episodio del corso di fotografia di Player Two Lighting guardiamo un altro set fotografico che possiamo preparare in casa o in un piccolo studio fotografico. Anche questa volta è un'immagine che sto preparando per un articolo dell'inventario di Player Two Lighting, è questo piccolo cavalletto portatile che ha la forma di una specie di polipetto e visto quest'idea del polipo ho deciso di giocare un po' con una delle action figure che ho per creare un'immagine un po' più divertente di una semplice immagine, diciamo, di un prodotto. Quindi anche questa volta credo che da questo piccolo set possiamo fare alcune considerazioni che ci possono aiutare in generale per quando vogliamo fare delle fotografie in studio. Prima di tutto l'ambientazione che avevo in mente era quella di un set un po' in spiaggia estivo e quindi ho svuotato alcuni dei sandbag, dei pesi che uso per tenere fermi alcuni degli stativi, li ho svuotati e ho usato questa sabbia che è un po' terriccio più che sabbia. Comunque per i fini della foto va abbastanza bene, ho messo un foglio di plastica sul tavolo, ho sparso la sabbia soltanto essenzialmente nei punti che mi servono per la fotografia, dove non arrivo con la fotografia non c'è sabbia, ho messo alcune conchiglie e al centro c'è il cavalletto e l'action figure. Adesso cominciamo vedendo la prima fotografia, la prima luce che aggiungiamo su questo setup che è la Keylight. Per scattare sto usando sempre la EOS 550D come obiettivo come il 100mm f2.8, la versione non stabilizzata macro e come radiotrasmittitore sto usando i Cactus V6, qui abbiamo un Cactus RF60 mentre gli altri due flash sono dei Lumo Pro LP120 e quello che vedete qui sotto al tavolo è sempre collegato con il Cactus V6 mentre questo dietro all'ombrello è attivato in slave, quindi quando vede un'altra luce si attiva anche questo. Per il momento è spento così possiamo vedere l'influenza della prima luce. La prima luce è un Cactus RF60 come ho detto con una griglia e una gelatina un quarto CTO. La gelatina un quarto CTO dà un tocco di arancione per avere un po' di differenza tra le diverse luci e dare un po' un'idea che l'ambiente è un po' più caldo. Quindi scattiamo la prima fotografia con soltanto il Cactus RF60 e non ha scattato perché penso che si sia spento, quindi vediamo di riaccenderlo. Eccolo qui. E adesso scattiamo la prima fotografia con il Cactus RF60 e ho messo il tablet qui così posso vedere le fotografie mentre parlo alla telecamera. E come vedete la prima luce è una luce molto dura, infatti non ha nessun modificatore, non c'è niente che ammorbidisce questa luce. Questo perché voglio simulare il sole che come sappiamo è una fonte di luce ad alto contrasto essendo molto piccola relativamente alla Terra e a noi che siamo sulla Terra. e quindi ho posizionato questa luce un po' da dietro e lateralmente. In questo modo crea più dettagli e crea un po' di chiaro scuro nell'immagine. Però come vediamo da questa fotografia l'immagine è un po' troppo contrastata, le ombre sono un po' troppo nette. Quello che possiamo fare per mantenere la forma delle ombre e un po' questo contrasto possiamo aggiungere una luce di riempimento e questa luce di riempimento essenzialmente non modifica l'aspetto generale della fotografia perché è così morbida avendo un ombrello traslucido la luce è così a basso contrasto che lei in particolare non crea grandi ombre e quindi quello che fa principalmente è di ammorbidire le parti più scure che vediamo frontalmente. Come vedete infatti è posizionato quasi in asse con l'obiettivo. Questo flash ha una gelatina che se non sbaglio è di half blue quindi è una gelatina non completamente blu ma che dà un tocco di blu. Questo per dare quel tipo di ombre che abbiamo nella realtà alla luce del sole visto che nelle zone d'ombra l'unica cosa che illumina diciamo un po' l'ombra è il cielo queste ombre assumono di solito un leggero colore blu e questo abbiamo cercato di ricrearlo con una gelatina. Quindi scattiamo la seconda fotografia e ha scattato il flash cactus rf60 con la luce di riempimento e vediamo che le ombre sono più morbide non abbiamo queste ombre così nette però allo stesso tempo riusciamo a vedere il contorno preciso delle ombre che ci dà una sensazione di essere all'esterno. Se usiamo delle ombre troppo morbide troppo a basso contrasto solitamente perdiamo un po' la sensazione di avere il sole che colpisce i nostri soggetti. L'ultima cosa che ci rimane da fare è attivare il flash sullo sfondo. Il flash sullo sfondo è un Lumo Pro LP 120 posizionato all'interno del light blaster e il light blaster, ne ho già parlato in uno dei precedenti inventari, è un proiettore che ci permette di proiettare delle diapositive sulle nostre fotografie e possiamo usarlo principalmente come degli sfondi. In questo caso ho preso una diapositiva di una specie di prateria ma quello che mi interessava a me era la parte sopra della prateria e questo cello con un po' di nuvole. A questa diapositiva ho aggiunto una gelatina di un quarto di blu, quindi per ridare un po' più di saturazione e un po' più di colore e davanti al light blaster è stato montato un 28mm f2.8. Il 28mm è abbastanza luminoso da non togliermi troppo la luce quando passa attraverso la luce del flash ed ha una lunghezza focale abbastanza ampia da riuscire a coprire la zona che mi interessa. Quindi in questo caso ho attivato dal cactus V6, ho attivato la luce secondaria, questa dello sfondo e scatto la mia fotografia e a questo punto possiamo vedere l'immagine praticamente completa con la luce principale dura, la luce di riempimento con l'ombrello e la luce dello sfondo che in questo caso ci dà, in realtà crea proprio uno sfondo, un'immagine di nuvole. L'ultima cosa che possiamo aggiungere, che non è assolutamente necessaria in questo caso, ma se vogliamo può dare un tocco di controllo maggiore sulla luce e questo è il piccolo pannello bianco che può ridare un po' di luce nella parte frontale del nostro soggetto facendo rimbalzare la luce di riempimento. Quindi quello che possiamo fare è scattare l'ultima fotografia e vediamo la fotografia finita, che in questo caso il pannello è un po' troppo avanti che sta creando una piccola ombra, quindi volendo possiamo allontanarlo di un pizzico e se il flash qui sotto è già carico, vediamo di riprovare l'ultimo scatto. Ci vuole un po' perché il flash lì sotto al tavolo è a piena potenza e quindi ha bisogno di un po' più di tempo di riciclo e visto che sono stato fino adesso a fare un po' di prove di scatto quando le batterie cominciano a essere indebolite. Quindi proviamo se la luce di sfondo scatta e credo che ha scattato dal suono. Vediamo, si ha scattato e a questo punto abbiamo la nostra immagine finale. Come sempre in questo momento non so bene cosa farò di preciso in post-produzione, ma solitamente la prassi è quella di controllare un po' il contrasto, i colori, aumentare un po' la saturazione per dare un po' di colori più vivi e poi magari aggiungere qui e lì alcune piccole sbavature che comunque in questo caso non credo che ci saranno dato che l'ambientazione vedendola così la fotografia dallo schermo mi sembra già perfetta. Per questo episodio è tutto, come sempre fatemi sapere se vi piacciono questi episodi nonostante che siano un po' più veloci e un po' meno precisi come impostazione. Condividete con me e con la comunità di Player2Lighting le vostre fotografie così le possiamo anche commentare insieme e come sempre potete scrivermi per mail su carlochioccia.player2.com, visitate il sito di Player2Lighting www.player2.com e iscrivetevi al forum www.player2.com. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!